Riproduciamo di seguito l'audio articolo di Ascolta la notizia intitolato, Salvini, reddito di cittadinanza? Soldi rubati da chi non fa una mazza, diamoli a chi vuole lavorare. Reddito di cittadinanza? Soldi rubati da chi non fa una mazza, diamoli a chi vuole lavorare. Così Matteo Salvini intervenendo durante un comizio a Erba in provincia di Como. Alla prova dei fatti dopo tre anni su un milione e centomila lavoratori abili che percepiscono il reddito di cittadinanza, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato 4.000, non è tanta roba. Quei soldi rubati da gente che sta a casa a non fare una mazza dalla mattina alla sera dovrebbero essere dati ai pensionati, ai precari e ai disoccupati veri che vorrebbero andare a lavorare, ha spiegato il leader della Lega. Sul tema fisco, Salvini ha affermato. Non capisco perché sulla pace, non in Ucraina, ma la pace fiscale in Italia, Draghi non vada fino in fondo. Equitalia ha 140 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire, che riguardano un italiano su quattro. Questi mille miliardi che lo Stato aspetta di incassare e non incasserà mai. Non è meglio chiedere il 20% di questi soldi, stracciare quelle cartelle esattoriali? Lo Stato incassa e milioni di italiani tornano a vivere. Una pace fiscale dopo la pandemia e dopo la guerra ci sta.